9-6, come sicuro i punti che ho scontato, Vecchis, Santana, Macalei, anche la terza sette per sento, non sa se non sbaglio, Dali Santana che effettivamente aveva chiuso il primo set a zero punti, è bravissima a fare questo colpo ma stavolta si salva Firenze, ancora Dali Santana, terzo punto consecutivo, Firenze che torna a Tirocci, Vecchis, lo alza e lo mette a rispondere in servizio Santana, Santana ci fa perdere il giudore di sezione, anche se Tirocci ho fatto in mezzo, tirato, miravolo tenendovi su, di sezione il giudizio si stilessi il donda per Luigi, Luigi due volte ma sa tutto solo kite, allora Santana, Dali Santana, 12-8, quarto punto consecutivo si è sloppata ha fatto cadere il pallone, riguardo il quundicesimo punto Casal Maggiore, quundicesimo punto il terzo sette momento, c'è il sette a quindici, Dali Santana con la rigenzione, Vecchis ma proprio Dali Santana, che torna a muovere il punteggio in favore di Firenze, il giudizio si sta soltanto molto bene, Santana con la palla molto spinta, Santana con la rigenzione, si guida un po' il ritardo, Santana con la rigenzione, Dali Santana che stavolta viene fermata dal muro, il bollo di Casal Maggiore, allora, Vecchis da Santana, pallone che si impiena, Dali Santana, protagonista assoluta di questo sette e quindi, anzi, da qui c'è un po' in difficoltà, fa un po' partita di male da parte all'altra, un po' in affanno sei male Sì, vabbè, 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 vabb Comini, come è saltata tanto. Filos Brokowicz, volta per il servizio. Cicciolini Guerra, Don da Guerra che spucia un po' il pallone. Allora può attaccare la risaltata alla seconda linea. La risaltata continua attaccata, sta attaccando la risaltata molto a mezzo. Si è specchiata nel secondo set. Questa tecnica, quella del pallonetto, per fare Firenze qua durante la difesa di Barrocani. L'alzata di Bechis per Santana. Punto importante per Firenze. Allora dal servizio di Tirozzi, Rondon, difficile attaccare per Favano che infatti è andata in palleggio. Dall'altra parte Sorokaice col pallonetto, ferma sulla rete, si salva Sorokaice, Dani, Santana. Ovviamente è cercato senza muro, perché molti non sono nel pano di Stavionese. Non sono nel pano di Stavionese. Non sono nel pano di Stavionese. Tirozzi va a servire, ovviamente lei, poi, quella possibilità per Firenze con Tali Santana. molto bene Santana che si è in scambio per il contatto squadronale 18 a 11 ho dovuto anche contare perché non era così banale ricordarsi di a me starci pallone ricevuto da Santana che poi va anche a attaccare è una vissima che Benito si è riuscita a smancare la sua attaccante passando da numero 1 19 a 12 i fantasmi che perseguitano le due squadre in questa partita si sono fatti sentire adesso sembra la fiano quelli di Casal Maggiore spaventare di più Zago fermata ancora Santana Santana oggi i fantasmi si è riuscita a casa la maggiore c'è da questo scambio quindi è stata ferma per una partita, insomma, il problema non ce ne siamo stati, quindi alla fine era difficile. Santana, pallone su Martinez, passata, di Figi per Pavad, si salva Firenze, Vecchis da Dali Santana, qua, Rondon impallinata dall'attacco di Dali Santana, 24-15. E poi se si fa la data Santana viene, è trasformato in tutti. Set point, il primo della gara per Firenze. C'è la ricezione di Parrocchiale che poi è andata a salvare, un pallone respinto dal muro di Casal Maggiore, Casal Maggiore che attacca con Martinez, ancora la grande Parrocchiale, può attaccare Santana, 6-4. Dell'attacco di Santana. Però, lasciami dire, complimenti a Parrocchiale. Sì, ha fatto la spesa un mega galassimo, davvero. In un paio d'occasioni di ex. Sì, perché la prima cosa andranno a saltare sull'attacco di Dali Santana. Sì, perché la prima cosa andranno a saltare sull'attacco di Dali Santana. Grazie a tutti